è più o meno così dei nostri 10.000 metri gara d'eliminazione con Marta Biscuola in prima posizione atleta della Fattinatori Simea campana di meno 48 no no scusate allora partite un atleta in meno molto bene 2-1-0 2-10 47 ammonite 440 ammonito e si forma un terzetto dell'atleta della Mezzana Siena anzi arriva anche ad aiutarle la quarta atleta sono in quattro ora in corsia interna si toccano i pattini vicinissime è partita la prima campana la prima campana la prima eliminazione vedete dietro un po' ci si stacca dal gruppo e ora Castorina in prima posizione 547 eliminata Castorina poi con il 133 Elisa Folli atlete che sono passate quest'anno in una categoria e ora 427 427 Sofia Battiato campionessa regionale Sicilio un atleta fondista che ora va a dare il cambio ci sono anche le altre due sorelle Castorina si allarga il gruppo 156 eliminata attenzione ancora la Battiato la Folli e poi della Bellusco Giorgia Giannarelli ancora Battiato e all'esterno le due atlete di San Giovanni la punta e ora le tre atlete di Catania sono lì in seconda e terza e quarta posizione 496 eliminata Elisa Folli 49 a punita Folli dall'esterno di scuola di scuola Folli Castorina Battiato corsia esterna per la 116 176 176 Giorgia Giannarelli numero 27 eliminata 27 Giannarelli di scuola di scuola Folli Castorina Bello Bello occupato ancora il gruppo con le migliori che stanno cercando di non consumare niente rimanendo con le ma di scuola di scuola di scuola 144 144 in prima posizione tipo 3 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 Atleta che si stacca l'eliminata è la numero 158 ancora Giannarelli ora in seconda Folli in corsia esterna gruppo compatto tre file le migliori sono tutte in corsia interna e ora di nuovo Valla Abazziato a prendere la posizione attenzione caduta le due atlete di Siena le due atlete di Siena l'atleta di Siracusa 44 a Morita attenzione attenzione in curva attenzione in curva attenzione su in alto in curva brave calma calma il medico è già arrivato a controllare le posizioni della tleta di Siena la tleta è già all'interno della pista è difficile quello di cappà guarda 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 però peccato questa caduta che ha coinvolto tre atlete due nella pezzata di Siena e una di Siracusa mentre la gara è neutralizzata l'atleta viene accompagnata dai sanitari al centro pista ma si aspetta ancora il segnale di giudice che è ancora calda la possibilità di recuperare un po' e poi ripartire quando siamo a meno 32 la gara è stata neutralizzata in meno 32 e da questo giro ripartirà al momento che la pista sarà nuovamente sgombra e disponibile applauso alle due a tre di Siena si sono graziate il numero qua la prossima eliminazione sarà a meno 29 ragazze e a meno 30 sentirete suonare la campana quindi siamo a meno 32 si riparte 22 giri poi a meno 30 la cavallana e a 29 l'eliminazione riparte la gara della categoria allieve riparte la gara si vanno alla ricerca delle posizioni ora è la numero tre che va ad inserirsi in prima posizione dei falchi di meno meno azzurra cichelli caffana prossimo giro eliminazione di meno 29 ancora madre di scuola di scuola elisa folli bacchiato giannarelli eliminazione eliminazione di scuola Folli, Castorina, Mattiato, Castorina, Iannaretti, 210 eliminata, Elisa Folli in prima posizione, va la Battiato ad aiutare i compagni di squadra, Castorina, ora Folli in terza, San Giovanni la punta, prime due posizioni, Battiato, Castorina, Folli, Castorina, Iannaretti, Mattilde Cherubini, è la Battiato che fa un buon passo, può gestire la sua velocità mentre dietro è ancora eliminazione, 258, l'atleta di Piacenza deve abbandonare, è ancora Battiato, Folli, Castorina, Folli, Battiato, Castorina, Castorina, Iannaretti, all'esterno Siracusa con il 59, 176 a Moneta, 176, al passaggio nuova eliminazione, nuova eliminazione, numero 3, si è trovata più, bisogna spingere fino alla fine, trovare un marco, non fermare l'ultimo rettilineo, per poi risalgono le altre con il 412, ora Olimpia del patinaggio Siracusa, Roberta Di Martino, controlliamo sempre la coda, controlliamo sempre la coda, 483 eliminata, 483 eliminata, è ancora Folli, 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 in prima posizione, Castorina, 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 Giannarelli, numero 26 eliminata, numero 26 Ancora riprova ad andare avanti, è Elisa Folli che ha fatto una gara sempre molto avanti, ora viene Siena con la 207, Margherita Minchi, in terza ora di nuovo fattiato, 176 eliminata, 176, ed eccoli, diamoli i rossi, primo, secondo e terza posizione ma rompe il cambio, in seconda posizione, in seconda posizione, Elisa Folli, sempre al controllo, Elisa Folli in seconda posizione, Matilde Cherubini, in quinta posizione, ancora un'eliminazione, 154 eliminata, 154, 2.800 metri ancora da percorrere, siamo a 14 giri dal termine, di dove avrete siracusane, vanno la Sicilia, sta facendo un po' da padrone, poi Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Lombardia, eliminazione, sul rettilineo, ci si lancia dall'esterno, 164 eliminata, ed ora, Gardano in line, va a prendere la prima posizione, a controllare, la bocca aperta, comincia a sentirsi la fatica, è Cecilia Zanella, a prendere la prima posizione, qua da Elisa Folli, che controlla in seconda posizione, mani sulle gambe per qualche atleta, bisogna tirare questo rettilineo, è eliminazione per 202, eliminata, bella gara dell'atleta di Biella, ci sono rimaste 4, 6, 8, 10 atlete, passaggio di meno 10, 2 chilometri alla fine, con Elisa Folli, a controllare, in prima posizione, Gastorina, Mighi, e per l'allungo, ancora gambe fresche, ancora belle gambe per l'Apattiato, che è andata con facilità, ma sotto, di nuovo la Folli, in seconda posizione, e il 4, 40 deve abbandonare la gara, bella azione di quest'atleta, ancora le prime hanno gambe ancora buone, perché per l'ultimo giro bisogna avere gambe per una grande volata, ed eccole ancora il passaggio di meno 8, meno 8. Castorina, Battiato, Folli, dall'esterno, Siracusa, Folli in seconda, ricuce subito, eccole all'arrivo, chi c'è, chi c'è, chi c'è? Numero 41 eliminata, 41, si ferma 41 eliminata, è l'atleta di Siena, si ferma l'atleta 49, si sta, no, non era eliminata, probabilmente qualche problemino fisico salda l'eliminazione, l'atleta 49, una delle due sorelle Castorina che si ferma, quindi, attenzione, passaggio, possono prendere fiato, l'atleta 49 che è rientrata, viene eliminata la 49 quando siamo a meno 4, sono 3 eliminazioni di fila, 3 eliminazioni di fila, 3 eliminazioni, quindi ogni giro eliminazione, attenzione, Battiato, Folli, Castorina, Minghi, sono le due atlete di Siracusa ora in ultima e penultima posizione, 412, ancora eliminazione, ancora un'eliminazione quando passiamo ai meno 2, e ce ne sarà subito un'altra, ai meno 1, ritorna, ritorna l'atleta di Siracusa, ritorna l'atleta di Siracusa, ci prova e non ce la fa, 59, ancora un'eliminazione, se oltre un'eliminazione, battiato della serie, siamo a 300 metri la fine, 300 metri, 300 metri la fine, Rillo, Folli, Castorina, Folli, Cazorina, Folli, Folli, Castorina, Folli, Castorina, Emilio